Andiamo dunque a parlare delle precipitazioni. Partiamo dalle precipitazioni ma saremmo potuti partire da qualsiasi altro punto del ciclo idrologico. Le precipitazioni infatti a loro volta sono generate dall'evaporazione dell'acqua, dalle superfici e dagli oceani prevalentemente. La pioggia cade, la foglia trema. L'obiettivo di questa lezione, anzi gli obiettivi di questa lezione sono essenzialmente due. Uno quello di capire quali sono i meccanismi di formazione delle precipitazioni e l'altro anche di fare una breve sintesi che riguarda i tipi di nube e i fenomeni connessi alle nubi che generano le precipitazioni. In modo molto semplice, perché piova, è necessario che l'aria si raffreddi. Ma praticamente l'unico meccanismo naturale per cui l'aria si possa raffreddare se escludiamo la variazione tra giorno e notte è che l'aria si innalzi generando un'espansione dei volumi medesimi e dell'aria medesima e attraverso questa espansione si raffreddi. Il fenomeno si chiama espansione adiabatica, per esempio, o gradiente adiabatico della temperatura, cioè genera il fenomeno del gradiente adiabatico della temperatura, per cui al variare della quota la temperatura in atmosfera diminuisce. Certo, per i volumi d'aria, per passare da una quota ad una più alta, ci deve essere una ragione dinamica per che questo succeda. Quando questo succede, tuttavia, l'aria innalzandosi si raffredda, si passa il punto di rugiada e quindi si formano delle goccioline e poi se ci sono le condizioni necessarie per che la condensazione avvenga, cosa non facile, peraltro, devono essere presenti delle polveri, dei sistemi aggreganti per che questo di solito avvenga, piove e nevica grandina a seconda delle situazioni. e delle situazioni, in particolare, anche della velocità di innalzamento, laddove l'aria discende non piove. La ragione per cui le masse d'aria si muovono e quindi poi magari, appunto, come vediamo, come abbiamo visto, portano a fenomeni di condensazione è che la Terra è una sfera. La Terra è una sfera, quindi la radiazione solare che la compisce è disuniforme dall'equatore ai poli, in particolare sulla superficie terrestre vi è molta più radiazione solare, molta più energia all'equatore, molta meno energia ai poli. Questo innesca un fenomeno di ridistribuzione dell'energia, appunto, dall'equatore ai poli e questo viene fatto sia negli oceani sia nell'atomosfera, generando dei moti, una convezione atomosferica a scala generale. Se la Terra non ruotasse su se stessa, questa convezione identificherebbe una grande cella nell'emisfero boreale e una grande cella nell'emisfero australe. In realtà, poiché la Terra ruota su se stessa, anziché formarsi un'unica cella, l'insieme delle forze che agiscono, in particolare la forza apparente di Corioli, fa sì che si generano tre grandi celle a nord e a sud. La prima che parte dall'equatore, innalzando l'aria all'equatore. Di fatto, in quella figura che vediamo in questa slide, si formano delle nubi in presenza dell'equatore. Questa cella si chiude con l'infossamento dell'aria più o meno attorno ai 30 gradi di latitudine nord e sud, latitudine alle quali, non a caso, sono presenti i grandi deserti terrestri. E una seconda cella parte da lì, in cui, muovendo sul terreno l'aria verso nord e viceversa in quota, va a chiudere una seconda cella a circa 60 gradi di latitudine nord e sud. E di fatto, qui nel disegno, vediamo che laddove di nuovo l'aria si innalza a 60 gradi di latitudine, si vengono a formare dei sistemi nuvolosi. In realtà la situazione è un po' più complessa di questa. Infatti, ruotando, il fatto che la Terra ruoti, appunto, fa sì non solo che si formino tre grandi celle, che sono come le celle di Adley, come sono chiamate qui anche, ma le circolazioni abbiano anche un'estensione, diciamo, abbiano una variazione spaziale con i meridiani, con la longitudine. Il fatto che ci siano queste circolazioni genera delle condizioni, secondo le quali elementi di caratteristiche termodinamiche diverse, vengono a contatto fra loro, creando delle discontinuità dinamiche nel campo di moto, ma anche delle discontinuità termodinamiche nel campo di moto. Normalmente vengono a contatto dei punti in cui queste celle, appunto, si toccano, delle masse d'aria con temperature contenuti d'acqua diversi, e queste possono generare dei moti relativi delle masse d'aria. In particolare, il moto sarebbe da una pressione più alta ad una pressione più bassa, se questo fosse confinato in un tubo, come ci insegna la meccanica dei fluidi. In realtà non è così. Essendo la forza di Corioli, fa deviare sistematicamente, verso destra nell'emisfero nord, e dall'altra parte dell'emisfero sud le particelle in movimento, facendo sì che in realtà i moti avvengano lungo parallelamente alle isobare, almeno in alta quota. Quindi, normalmente, i venti girano intorno alle basse pressioni. In questi movimenti, appunto, abbiamo detto, si generano delle condizioni in cui delle aree, per esempio, più dense, incontrano delle masse d'aria più calde, meno dense. La massa d'aria fredda, in questo caso, è più densa, si insinua mediamente al di sotto della massa d'aria calda, alla quale viene imposto un innalzamento. Innalzandosi, succede quello che appunto avevamo detto prima, cioè l'aria si innalza, si raffredda, e vali a condensare il suo contenuto di umidità, che poi può generare delle precipitazioni. In questo disegno si distinguono dei pallini e delle punte, e le punte segnano quello che si chiama in meteorologia un fronte freddo, i pallini quello che chiama il fronte caldo. Il fronte caldo è il fronte della massa d'aria calda che si solleva sopra l'aria fredda. L'insieme delle forze, in particolare della forza apparente di Coriolì, che agiscono, fa sì che attorno ad un nucleo di rotazione, che è generalmente un punto di bassa pressione, si generano due elementi diversi, e l'aria fredda tende a ruotare attorno al nucleo di bassa pressione e a chiudersi formando quello che si chiama uno stadio di occlusione, e poi infine uno stadio di dissolvimento della precipitazione. Vedete anche nelle parti disegnate, per così dire, di traverso sulle slide, che appunto si tenta di rappresentare la sezione di quello che avviene in atmosfera con la formazione successiva delle nubi e il generarsi delle piogge. Questi tipi di meccanismo si chiamano meccanismi di tipo frontizio, sono stati in qualche modo definiti agli inizi degli anni del Novecento, quando avvenne per esempio la Prima Guerra Mondiale, e il meccanismo di frontizio appunto fu quasi mutuato da quel tipo di guerra, di posizione che venne condotta in quello che noi chiamiamo la Grande Guerra, cioè come due eserciti che si schierano l'uno di fronte all'altro e poi si affrontano. Da un punto di vista diverso, cioè visto ad esempio attraverso l'analisi di bande radar, il meccanismo frontizio si può rappresentare come in questa slide. Vedete sulla destra, che è una specie di forma a testa di cavallo, se vogliamo, che rappresenta il fronte caldo, che sale sul fronte freddo. Generalmente all'interno del fronte caldo si possono distinguere delle sottostrutture all'interno della precipitazione, alcune di queste sono delle celle di convezione, e dietro segue poi il fronte freddo, segnato appunto dai triangolini, nelle quali ci sono delle altre bande di convezione e di generazione delle precipitazioni. Che cosa causa un sistema frontizio di questo tipo? Beh, ovviamente causa delle precipitazioni nella prima fase del passaggio del fronte caldo, e poi una seconda fase di precipitazione nel momento di passaggio del fronte freddo. Questi, come abbiamo detto, sono fenomeni meteorologici che si generano a grande scala, e quindi l'estensione di questi sistemi nuvolosi è di migliaia di chilometri. Le precipitazioni in questi sistemi nuvolosi possono essere anche di grande intensità, ma generalmente in alcuni tratti. Qual è l'effetto comunque complessivo che si osserva a terra, per esempio, sulle precipitazioni? Viene a proposito la misura dell'oglietogramma, una stima anzi dell'oglietogramma, che si è generato sulla testata di un torrente qui in Trentino durante la tempesta di Vaia, tra il 27 ottobre e il 30 ottobre. Quello che si vede è una precipitazione attorno ai 10 mm, mi raccomando, ricordate anche questi numeri, è quasi costante per un tempo relativamente lungo, si vede praticamente dalla mezzanotte del 27 ottobre, per tutta la giornata del 27 ottobre, fino a circa metà del 28 ottobre. Questo è il fronte caldo che passa e genera la precipitazione. Dopodiché vi è una fase di quasi 8 ore di transizione in cui non avviene nulla, poi improvvisamente parte il fronte freddo, in questo caso con fenomeni convettivi molto accentuati, che generano il picco di precipitazione di 25 mm che voi vedete generato qua. In questo caso, dunque, le precipitazioni sono generate da fenomeni di tipo che si generano su grandissima scala, croppolano vaste aree. Entro queste vaste aree, normalmente, la precipitazione può non essere anche molto intensa, ma per esempio, nel caso che è qui illustrato, la precipitazione è molto intensa, non nell'intensità oraria, come capiremo magari più tardi, ma senz'altro nel volume complessivo che si viene a generale, che in questo caso, in questo punto, risulta di più di 350 mm nell'arco dei tre giorni. Se voi considerate che in questi luoghi la precipitazione può essere di 1500 mm, capite che un quinto della precipitazione annuale è caduta semplicemente nell'arco di tre giorni e ha quindi i caratteri di una precipitazione eccezionale. Non è ovviamente il meccanismo frontizio è l'unica modalità con cui si crea innalzamento dell'aria. Per esempio, il movimento di innalzamento dell'aria è quando un vento viene a scontrarsi con la topografia. In questo caso, l'aria di nuovo è portata a salire, come vedete nella foto tratta dal libro di Whiteman, di Mountain Meteorology, e in questo caso, vedete, in realtà si vedono vari meccanismi, ma il primo meccanismo in alto, vedete, l'aria sale, avviene la condensazione, quindi la formazione di una nuvola che sembra quasi stazionaria sopra la cima della montagna e questa poi può, a seconda dei casi, generare precipitazioni. ci sono varie modalità di interazione con la topografia, come vedete nel secondo caso, nella seconda riga, nella prima colonna, cioè ci sono dei venti che si incanalano lungo una valle e poi alla fine della valle formano queste nuvi, altri venti che girano attorno ad una montagna isolata e poi nuovamente si sono portati ad innalzarsi, mentre nella parte destra vediamo sempre dei fenomeni che sono, sì, generati dall'interazione con l'orografia, ma hanno anche dei caratteri di natura convettiva che andremo a verificare e ad analizzare qualche slide più in là. Sempre parlando di effetti orografici, osserviamo, per esempio, questo potrebbe essere il quadro di una precipitazione di natura frontizia che viene ad incrociare una catena montuosa. Mentre il ciclone incrocia la catena montuosa, i venti si muovono attorno alla bassa pressione, come si vede nella figura in alto, la parte più in basso sale lungo la montagna e quindi dalla parte, diciamo, in alto a destra si possono generare, si generano delle nubi e si possono generare delle precipitazioni. Quando il sistema frontizio, il sistema ciclonico, oltrepassa le creste della montagna, avviene esattamente il contrario, cioè si ha la formazione delle nubi nella parte più lontana, in questo caso, dall'osservatore che siamo noi, perché è in quel caso che l'aria sale sulla dorsale. Dunque, oltre al meccanismo frontizio, abbiamo vari meccanismi orografici che possono portare all'inalzamento dell'aria e in particolare abbiamo, per esempio, l'interazione anche fra meccanismi di natura frontizia di matura orografica. Abbiamo accennato prima e visto anche parzialmente nella figura tratta da Whiteman dei meccanismi che sono stati definiti di natura convettiva. I meccanismi di natura convettiva si generano perché a causa del riscaldamento della superficie terrestre. L'atomosfera è praticamente trasparente alla radiazione solare, difatti noi vediamo il Sole, quando questa, quindi, essendo l'atomosfera trasparente alla radiazione solare, la radiazione solare diretta ad onda corta non riscalda l'atomosfera, ma riscalda il suolo che va a colpire. L'effetto di questo riscaldamento è quello che vediamo disegnato nella figura a sinistra che è dovuta a Prantla nel suo lavoro del 1921, quindi un secolo fa, in cui si vede che l'andamento delle temperature va a variare, in particolare va a posizionarsi da una variazione di temperatura con la quota su una delle linee rette che voi vedete disegnate ad una variazione che invece si discosta dalle linee rette, in particolare la temperatura al suolo tende ad aumentare, a spostarsi verso destra e ad aumentare oltre la linea, la retta alla quale è adiacente. Questo provoca quello che si chiama un fenomeno di instabilità, cioè parcelle di aria vicine alla superficie atmosferica sono spinte sempre di più ad innalzarsi perché man mano che si innalzano sono comunque di densità inferiore all'aria che le circonda. Il sistema in questo caso si chiama, cioè si dice che è essere in un caso di instabilità atmosferica. L'instabilità atmosferica in alcuni casi può essere molto accentuata e portare quindi all'innalzamento dell'aria per centinaia di metri è la formazione prima di nuvoli che si chiamano cumuli e poi di nubi sempre più congesti che si chiama appunto cumuli congesti ed infine degli strato cumuli che attraversano tutta, magari che sono, che attraversano magari tutta l'atmosfera. Qui in questo caso la dimensione verticale non risponde necessariamente alla realtà, è un po' compressa perché questi fenomeni possono avere una base supponiamo di una decina di chilometri e svilupparsi nello stesso tempo per tutta la quota dell'atmosfera che di nuovo è attorno ai 8-10 chilometri a partire magari da un migliaio di chilometri da 7-800 metri o da 1.000 chilometri cioè non 1.000 chilometri ma 1.000 metri in alto. Anche qui quando l'aria si innalza si raffredda per effetto dell'espansione adiabatica diminuisce la tensione di vapore di equilibrio e il vapore che prima era in equilibrio con le condizioni termodinamiche al suolo non è più in equilibrio si condensa si formano quando è possibile delle particelle d'acqua normalmente la formazione delle particelle d'acqua non è una situazione così scontata nel senso che per formare delle piccole particelle bisogna formare anche le superfici di queste particelle e non è la formazione di queste superfici una questione complessa termodinamicamente che viene facilitata dalla presenza di polvere in un'aria perfettamente pura il contenuto di umidità può superare di 4 volte la tensione di vapore quindi la pressione in cui il vapore è in equilibrio con il liquido cioè il vapore è lo stato il vapore non è più lo stato termodinamicamente favorito ma lo sarebbe lo sarebbe lo stato liquido e e quindi laddove non ci sono particelle di condensazione non accade quasi mai che ci siano formazioni di nuvole se però queste condizioni si generano si generano le nuvole il caso può essere di questo che è un cumulo un cumulo piuttosto ben sviluppato e questo cumulo come sappiamo è l'immagine di un di una precipitazione che è estiva in cui si sono verificati questo tipo di fenomeni di convenzione atmosferica questi cumuli peraltro come ho già accennato hanno dimensioni limitate cioè una base che potrebbe essere di 10 km un'altezza di 10 km a differenza delle precipitazioni frontizie di cui abbiamo parlato prima che hanno un'estensione che fanno parte dei sistemi nuvolosi che hanno l'estensione di migliaia di chilometri nello stesso modo anche i fenomeni orografici possono essere limitati nello spazio e oppure quando si quando si tratta di interazione fra l'orografia e i fronti possono avere le dimensioni dei fronti medesimi abbiamo visto che in realtà ci sono forme di convezione anche all'interno dei fronti nel passaggio dell'inizio del fronte caldo per esempio dell'inizio o della fine del fronte freddo si possono generare si possono generare dei fenomeni convettivi che però mentre questi sono di natura questi che vediamo qui sono di natura puramente termica gli altri erano anche di natura meccanica l'effetto quindi è quello che vedete cioè cadono precipitazioni in questo caso le precipitazioni sono molto localizzate nello spazio e nel tempo possono essere però di grandissima intensità perché più velocemente si muove si innalza l'aria assai più velocemente poi anche discende con la neve dal punto di vista di un'immagine radar l'immagine di un formazione di un cumulo potrebbe essere questa l'aria si sta innalzando e questo rappresentato dalla particella con la freccia al tempo t0 l'instabilità atmosferica è molto accentuata per cui il cumulo comenta ad espandersi su tutta la verticale si espande fino a raggiungere al tempo di 2 una superficie massima in cui le particelle che prima erano praticamente al suolo sono all'altezza massima a questo punto si condensano e cominciano la loro caduta e poi come vedete negli effetti successivi si ha l'esaurimento la caduta della parte della parte liquida condensata con la formazione di piogge che sono localizzate e la localizzazione anche in questo caso in questo eco boundary che è tratto dal libro di Ouse del 1994 sul sulla dinamica delle nubi esaurisce quindi la precipitazione che poi si dissolve questo che avete appena visto si è rappresentato qui per esempio in questo caso in cui vedete la formazione di quello che si chiama un cumburonembo con la tipica forma a martello che sta sulla superficie e intorno al martello vedete anche disporsi dei piccoli cumuli che dei piccoli cumuli che sono ancillare sui quali ritornerò più tardi all'opposto dei tipi di evento e convettivo dei cumuli ci sono le nube di natura stratiforme che possono succedere per esempio all'interno dei fenomeni di natura frontizia di cui abbiamo parlato all'inizio in questo caso le nubi hanno una struttura molto diversa sono molto estese nello spazio generalmente nello spazio diciamo sull'orizzontale ma poco estese o relativamente meno estese sulla verticale mentre nel caso delle nubi convettive il sistema era decisamente guidato dal violento innalzarsi delle particelle di vapore che poi si formavano le gocce e cadevano molto velocemente qui c'è una deposizione piuttosto lenta delle particelle in questo caso non liquide ma addirittura congelate nella parte superiore della 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 nuvola che si vengono quindi vengono si depositano pian piano fino a superare lo strato in cui avviene la fusione delle particelle appunto ghiacciate e quindi una avviene la precipitazione che però ha caratteristiche assai diverse da quella convettiva in questo caso le precipitazioni tendono ad essere di lunga durata e di intensità relativamente modesta rispetto alle nubi che abbiamo visto prima ci possono essere anche delle nubi particolarmente eccezionali in cui varie celle si condensano le une su molto molto vicine le une sulle altre possono generare sia venti che intensità di precipitazione molto elevati vedete in questa figura per esempio nel diagramma che è presentato in basso che l'intensità di precipitazione qui può raggiungere anche 100 mm all'ora che è tutt'altro che un'intensità estremamente rilevante in questo caso poi si parla di supercelle in cui le varie celle convettive si susseguono così velocemente le une sulle altre che sembrano formare un'unica grande celle e un'unica grande precipitazione questa è una seconda immagine dello stesso tipo di fenomeno in cui sono rappresentate forse meglio le temperature e si può osservare che le temperature possono essere molto basse intorno anche a meno 40 gradi centigradi la ragione per cui questo tipo di precipitazione può generare della grandine per esempio e delle velocità del vento estremamente elevato per esempio di 40 metri al secondo in questo caso nella direzione della quota più o meno a 10 km di quota qui colpisce anche l'estensione della nuvola che si estende quasi fino a 15 km e trattandosi quindi tra l'altro di un evento estremamente eccezionale quali sono dunque i fattori che influenzano la natura e la quantità delle precipitazioni beh alcuni li abbiamo visti hanno una natura dinamica hanno un'origine dinamica cioè il fatto di una precipitazione di essere frontizia piuttosto che convettiva e le nubi di essere dei cumuli piuttosto che degli strati ci sono anche delle delle peculiarità che derivano naturalmente dalla posizione al suolo in cui ci si trova come dicevamo all'inizio la la precipitazione è distribuita in modo disuniforme sulla superficie della terra questo perché è più intensa le precipitazioni sono più sono annuali almeno sono maggiori all'equatore e attorno ai 60 gradi l'altitudine nord e sud e poi per la ragione dell'interazione con le precipitazioni le precipitazioni variano con l'altitudine poiché si formano delle nubi in prossimità o sulle dei crinali o certe quote sulle montagne anche l'altitudine è un elemento importante nel caratterizzare le precipitazioni localmente se vi è disponibilità di umidità la precipitazione tende a salire con la quota salvo poi stabilizzarsi e diminuire per le quote più alte dove evidentemente per l'insieme della dinamica della struttura geologica e morfologica dei bacini delle catene montuose il contenuto di umidità viene mediamente esaurito e non si generano quindi precipitazioni è ovvio quindi che anche un'altra condizione rilevante rispetto per la formazione delle precipitazioni è la vicinanza la lontananza della massa oceanica la maggiore sorgente delle precipitazioni sono i mari e gli oceani quindi luoghi in prossimità dei luoghi all'inizio delle montagne e in prossimità di grandi corpi di grandi masse d'acqua come appunto gli oceani sono luoghi piovosi in Italia il luogo più piovoso è il Friuli che ha proprio queste caratteristiche nel mondo i luoghi più piovosi sono per esempio dove si hanno piogge monsoniche in prossimità dell'Himalaya per esempio in Bangladesh con l'India per effetto di tutte queste cose che ho raccontato la distribuzione delle precipitazioni è piuttosto disuniforme nello spazio e poi vedremo anche nel tempo in particolare per effetto della circolazione generale la precipitazione in prossimità dell'equatore è più elevata e poi ed è elevata attorno ai 60 gradi questo non fa altro che confermare quanto abbiamo visto in precedenza e lo vedete nelle due figure in alto e queste sono figure che si chiamano di reanalisi in cui varie stazioni meteorologiche sparse su tutta la superficie della Terra sono state sono state analizzate prendendone i dati e ricontrollandoli e rianalizzandosi attraverso alcuni vari modelli di circolazione che qui sono anche elencati come AMIP2 e AMIP2 GJA la mappa che corrisponde a queste distribuzioni di precipitazione è quella che appare nel fondo in cui si vede che evidentemente ci sono i luoghi in cui avvengono maggiormente le precipitazioni sono di nuovo distribuiti lungo l'equatore per esempio però non in modo così uniforme come ci aspetteremo ma con variazioni che sono dettate dalla distribuzione delle masse continentali la conseguenza nel nostro caso visto che noi parliamo di idrologia in questo corso è che in dipendenza non solo dalla latitudine e della longitudine ma anche dal luogo della Terra in cui ci troviamo ad escrivere le precipitazioni ci dovremmo aspettare precipitazioni più o meno intense volumi di precipitazioni annuali più o meno grandi a seconda del luogo in cui ci troviamo non solo della latitudine un'altra caratteristica che abbiamo sfiorato delle precipitazioni è che queste sono molto variabili nello spazio e nel tempo sono molto variabili nello spazio e nel tempo e qui si vede per esempio nella mappa sotto che è una mappa satellitare in cui le macchie rosse corrispondono ai fenomeni possibilmente di precipitazione più intensa anche se non dobbiamo credere con esattezza nei valori che sono mostrati e poi vedete delle mappe con risoluzione diversa cioè vedete la mappa degli Stati Uniti in cui ci sono precipitazioni ad est e ad ovest in particolare ad est almeno nella parte sedentrionale queste precipitazioni sono dovute anche all'interazione con i monti Appalachi e quindi c'è una distribuzione complessiva generale differenziata che è dovuta diciamo nell'immagine in basso nell'immagine in alto a sinistra alla distribuzione relativa delle masse continentali e degli oceani e alla posizione delle montagne la risoluzione con cui queste precipitazioni sono guardate è molto diversa quella della mappa globale il pixel cioè l'elemento distinto separatamente di circa 25 km di lato più nelle altre immagini il pixel è via via di dimensioni diverse osservate per esempio una figura in alto in centro questa è un'immagine radar che è un radar che è giusto al centro di questa immagine che copre un raggio di 512 km e con una risoluzione di 4 km su 4 km quello che si osserva è che la variabilità della precipitazione è molto accentuata ci sono dei punti in cui la precipitazione è minore di 5 mm e dei punti in cui la precipitazione è maggiore di 30 mm se noi prendiamo un pixel di 4 km come quello di prima e lo andiamo ad analizzare ancora più risoluzione anche all'interno di questo andamento spaziale per effetto sia dell'eterogeneità della dinamica che della diversità e terogeneità anche delle superfici con quale la dinamica atmosferica viene a interagire c'è di nuovo della variabilità spaziale che si osserva nella figura in alto a destra nella struttura delle precipitazioni quindi le precipitazioni sono molto variabili nello spazio e sono contemporaneamente quindi anche molto variabili nel tempo oscillano la ragione per cui questo avviene è anche legata alla struttura delle nubi quando prima avevamo visto un cumulo nebo e vi invito di andare a rivederlo ancora vi facevo osservare che il cumulo nebo attraversa tutto lo sviluppo dell'atmosfera in verticale e intorno a sé aveva delle piccole nubi ancillari che si venivano a formare questo è quanto è rappresentato in questa situazione la freccia indica il tempo che passa mentre questa struttura fusiforme indica la crescita di varie celle ovvero in questo caso la crescita di varie nubi noi ne seguiamo una che è chiamata A all'inizio a sinistra al tempo T1 è un piccolo nembo cumulo che si viene a formare questo cumulo man mano che passa il tempo si ingrandisce giunse al suo massimo stadio al tempo T3 in questo è probabilmente anche il tempo in cui il cumulo rilascia il suo massimo di precipitazione poi nel tempo successivo diminuisce di di importanza e poi la cella scompare ma mentre questa cella nasce si dissipa e poi muore altre celle per esempio la cella la cella B si viene a formare sostituendola anche nel punto dello spazio in cui si trovava questa cella prima e quindi creando degli impulsi successivi di precipitazioni di grande intensità che si susseguono con maggiore o minore frequenza nel caso delle supercelle che avevo elencato in precedenza quello che succede è che il susseguirsi di queste microcelle che sono così vicine dovute all'intensità del vento e a particolari fenomeni meteorologici è tale che tutto si fonda in un'unica grande cella gigantesca appunto la supercella con grandi velocità dal vento grande intensità di precipitazione e fenomeni molto disastrosi noi intanto ci possiamo fermare qui se avete domande basta che voi le mandiate via email in questo caso grazie a tutti